Stiamo con Ginghielo, il nuovo sindaco di Rescaldina. È una vittoria importante, anche alla luce dei risultati dell'Europa, vuol dire che non ha vinto una persona, ha vinto un progetto, ha vinto un modo di fare politica e di amministrare il Paese rispetto ai principi di onestà e di legalità. Andiamo avanti per i prossimi cinque anni per migliorare Rescaldina. Grazie a tutti quelli che hanno posto con il voto la fiducia in me e nel gruppo di Vigione Rescaldina. Grazie.